Ridurre l'incidenza dei fattori di rischio evitabili delle malattie cronico-degenerative con una modifica degli stili di vita. E' uno degli obiettivi del progetto europeo IMPH, i cui primi risultati sono stati presentati a Palazzo Lascaris nel corso di un workshop organizzato dalla SL di Biella. Il progetto intende incidere sulla correzione dei comportamenti personali, favorendo lo sviluppo e la diffusione di una cultura orientata alla prevenzione.